No, ho scritto auguri 28. Ma in cinese? Ho scritto bestia in giapponese. Ah, becchi, sì, vecchi, che vuol dire bestia in cinese. Passi il telefono. Mi lavo mai le braccia? Il trucco è quello, devi dirgli, ma il trucco è non lavarsi le braccia. Sì, stai in avanti, stai in avanti. Noi cosa facciamo? Un polvereco speciale e poi mi lavo le braccia. Questo lato non me lo lavo. Guarda che sembra, sembra se ti serve la batteria e rivolgiti al lombardo. Ah, dove c'è andata? Sì, no, però c'è la versione. Due candene sono spettate. Sì, quasi quando si svegneva più. Scusa che almeno sono spettate. L'hanno lanciata in avanti, non lo continuo. Ma posso sbagliare? Posso andare anche sopra? No. Dovrei boccare un po' di sciamma. Vado? Vai su. Ma attento che ti bruci, giralo di lato il coso, sennò ti bruci il dito. Mink, sei dovuto in Thailand, dove sei andare? Anche lei. Ah, no, no, no. Ci vuole quella lunga. Ah, sì. Perché ogni anno c'è una festa. Dai, allora, anche auguri! 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 Secondo me è solo una foto, aspetta, scusate, faccio solo una foto qua, che poi la faccio del lavoro. Io c'ho le torte quelle potenti. Grazie a tutti! Soffia, soffia! Due, tre. Grazie. Grazie a tutti. Gol! Che bella! Bellissimo! Non ce la faccio, sono già tutta. No, ma... Non ce la faccio, sono già tutta. Così... Senti quello che suona, così a di fini. Ma perché la... Non lo capire. E ora è che non si spegne. Mi devi dare. Dami! E' un po' di piacchietto d'acqua. E' un po' di piacchietto d'acqua. Mettile anche un fiore. No, io voglio la schiena. Tu vuoi la schiena? C'è qualcuno che vuole ancora un po' di bracchietto d'acqua? E' qua, vieni qua. Dai bevi. Qua ci sono i bicchieri vuoti. Non so. Mette Giorgio. Falsicine di intorno. Ma va. Ma va. Senta che... Sara, come la vuoi tu? Una fettina piccolina, piccolina con un fiore. Dammi il piatto. Però mi sto facendo male di sé. Eh, butta la nega. Dove? Senza fette. Mettiamo un po' papà così. Bravo. Madonna, grazie. Ma grazie mille. Bravo. Buon Natale. Occhio alla lettera di Natale. Ma se non fai provare il Pilate non ve l'avete fatto. Mica ma... Ma mi sono chiuso tantissimo. Regali, regali. Sì, dopo questo qua non lo avevo. Dai, dopo questo qua. Dai. Ma il biglietto leggi, se c'è il biglietto lo devi leggere. Lo sai leggere? Dai. Dai. Sai leggere? Anche lei. Mi stai sparafasciando. Dai, fretta. Allora. Mi finisci la pellicola. Guarda, che bello. Oggi campi 28 anni. Guarda qua, guarda qua. Che bello. Che bello. Buon lucidà. Allora, 28 sì, ma portati con una crassa invidiabile. Dai ci sta però. Lo sapevo io. In effetti comunque 28 l'ho provato molto molto bene. Non è che voglio tirarlo. Non è che voglio tirarlo. Tanti auguri felici perché oggi è il tuo compleanno. E tanti auguri speciali perché tu sei tu ovviamente. L'angelo del figlio. Bellissimo. Ah, ma ti voglio tutta la roba di nascosto. Bravi. 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 Tutte le firme. Dai a vedere. Io a 21. Vedere, vedere. Ah, questo qua io so che sicuramente, molto ovviamente, sarà un puzzle. Io so che devi aprire. Come il puzzle che c'è di là. È un puzzle. È quello che c'è di là preso in camera. Secondo me è quello che c'è in camera. Sicuro. È un puzzle come la foto della torta. Cos'è? Ta da. C'è salato. Il culo. Il culo. Il culo. Il culo. Il culo. Ma infatti non ci sono. Ma infatti, non ci sono. Ah, girai una piccola, la gente lo sa. Infatti non ci sono. Non ci sono. No, comunque non lo sai. Oddio. queste qua sono le foto di Hong Kong che ho portato un po' a tutti poi ce ne sono alcune che mi sono tenute bene ho fatto sì sì io l'ho capito forse al puzzle qua dietro non c'è tutto tutto allora 2 ottobre 2018 al più bel testimone al più bel testimone vero al più bel testimone tanti auguri dai nonni di velio bellissimo unico anche lei ha una sua vita come ti ora ci portavo c'è anche il concerto di vasco vai a messa che è meglio dai apri ti fa morire oh che bella bellissima sembra un po' bella guarda che talla così c'è così capisco è un puzzle 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 è bello brava è un puzzle è un puzzle la accorcieremo va bene al nonno noi noi ci stiamo in due la accorciamo dai no 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 va bene al nonno va bene al nonno gira gira tanti a S penso bella oh Torino bella bellissima che bella bellissima bellissima tanti a S mi giuro tanti a S mi giuro tanti a S mi giuro lui non mi porta l'arma no no ammazzate qua ragazzi cos'è? un'altra magia ammazzate oh a lui a non serve la giacca a lui a non serve la giacca testimone simone testimone testimone Grazie a tutti.